Ci sarebbe un'ennesima segnalazione per il famoso rapper italiano Fedez, il cantante italiano del nord Italia, da parte del vicino che un paio di settimane fa avrebbe detto di oggi, primo aprile 2016, all'Alba Fedez, che per l'appunto era presente, come avrebbe dichiarato il vicino, sarebbe entrato sgassando e facendo rumore. Sarebbe sto utilizzando. Al momento non ci sarebbero denunce. È una situazione ridicola, è stata una serata qualunque. Così l'entourage del rapper sarebbe intervenuto in merito all'episodio che si sarebbe verificato ieri sera e che vedrebbe quel volto Fedez, il famoso rapper italiano. E' un suo vicino di casa, con il quale due settimane fa ci sarebbe stata una dire. L'entourage del rapper smentisce categoricamente quanto avrà accaduto da vicino, circa la sera di ieri, una serata qualunque, terminata con un rientro a casa, un sconsemplice parcheggio e molta voglia di andare a dormire, di mettersi sotto le coperte da parte del buon Fedez. Dunque non sarebbe accaduto quello che avrebbe dichiarato il buon vicino di casa, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, se in tali video fossero presenti, ne sapesse ne scuse, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto è escluso di me, eventuale responsabilità di qualsiasi natura. Grazie a un saluto a voi tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti